Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille! In un'epoca di convulsioni globali e rinnovate tensioni internazionali, Life non è soltanto l'autobiografia di Papa Francesco. È un manifesto pacifista, un invito alla riflessione storica, un richiamo alla saggezza degli anziani. La prossima primavera, attraverso le pagine pubblicate da HarperCollins, il pontefice intende offrire una bussola morale per il presente, tessendo le proprie memorie personali con i fili dei grandi avvenimenti che hanno scandito l'ultimo secolo. Ripercorro la storia perché i giovani ascoltino gli anziani, sostiene il Papa, auspicando un ponte tra generazioni che possa fungere da argine contro il ripetersi degli errori passati. Guerre, genocidi, persecuzioni e odio interreligioso. Il Vescovo di Roma non si esime dal richiamare i momenti più bui dell'umanità, spronando al tempo stesso a un esercizio di discernimento, di analisi critica, dei ricordi individuali e collettivi. Il libro è l'occasione per Francesco di narrare la propria vita come parte integrante della storia, con capitoli che abbracciano eventi di portata storica come la caduta del Muro di Berlino, il gol di Maradona nell'86 e i più recenti sviluppi internazionali. Un percorso che si propone di essere guida e ispirazione, incoraggiando alla riflessione su temi urgenti come le diseguaglianze, la crisi climatica e i conflitti armati. La pubblicazione di Life si annuncia come un progetto globale di HarperCollins Italia, destinato a raggiungere un'ampia audience internazionale. Con la peculiarità di unire la voce di Papa Francesco a quella del vaticanista Fabio Marchese Ragona, il libro promette di essere una lettura trasformativa, arricchita dalla prospettiva storica di chi la storia l'ha vissuta in prima persona. Brian Murray, CEO di HarperCollins, esprime entusiasmo e onore nel dare voce al pontefice, il cui percorso di vita ha attraversato e toccato alcuni dei più decisivi episodi del nostro tempo. La storia di Francesco, da Buenos Aires al soglio pontificio, diviene così un racconto imprescindibile per chiunque sia in cerca di comprensione e di speranza in un mondo complesso e in rapido cambiamento.